Il Marchese de Sade, famoso per le sue scandalose opere letterarie, tra il 1775 ed il 76, circui l'Italia rimanendo sconcertato dall'immoralità dei costumi dei nostri avi. Non lo seguiremo passo dopo passo, ma solo quando inciampa in qualche ragguardevole per lui curiosità, usando per lo più le sue parole. Siamo a Firenze. Qui si osserva una forte propensione a tradire il proprio sesso. Le donne si abbigliano volentieri da uomini e questi da donne. Il mio piasimo è ben fondato. C'è chi assicura d'aver ottenuto indulgenza plenaria per queste dissolutezze, e così per l'incesto e l'adulterio. Si afferma che metà delle donne di qualità si prostituisca a casa loro con segreta sfrenatezza. Ma se la fedeltà coniugale non è rispettata, quella verso il cicisbeo, una sorta di secondo marito, è più solida. Non ho bisogno di parlarvi della Toscana e delle sue città. È una faccenda di geografia in cui io non centro. C'entra invece un affaire, in vero banale, una storia breve, ma a suo dire appassionata, con la bella, chiara, moldetti, sposata, madre di cinque figli ed incinta, figlia del dottor Mesni, medico personale del Gianduca Leopoldo. Leopoldo e l'arte della galleria di Palazzo Vecchio commenta Ornata di statue, idoli e opere antiche, ma davanti alla venere di Tiziano, si dice essere stata la sua amante, è una bella bionda distesa, completamente nuda, con una mano sparpaglia delle rose e con l'altra copre quella che le ha dato la natura. Sarà un'altra venere, una statua medicea, ad indurlo a descrizioni anatomiche banali e talora ovvie. La rotondità del seno, natiche capolavoro, contemplandola ci si sente penetrati da una santa emozione. La prima cosa che vidi a Roma fu la chiesa di San Pietro, con facciata più teatrale che imponente. Subito si corregge. Tuttavia, non si può immaginare la sua vastità per la bellezza delle sue proporzioni, di cui più non parlerà perché le proporzioni in Italia si trovano dappertutto. Entrato in Santa Maria del Popolo, apprezzato il martirio di San Lorenzo e di Sant'Agnese, osserva acutamente che le cornici di questi quadri sono in verde antico. Della natività di Sebastiano del Piombo, afferma che merita tutta la sua fama ed ignora Caravaggio, chissà, forse perché in restauro, sarà l'estasi di Santa Teresa a suscitargli un rimprovero a Bernini perché non s'addice l'ardore ad una santa. Tuttavia, narrandone la storia condotta dai soldati alla presenza del nipote del pretore che ne esige i favori, il Marchese trova fiabesco l'intervento angelico soccorritore alla verginella. Meglio si spiegherebbe la faccenda, sostiene, rappresentando l'aggressore alla virginità, sfinito dall'impresa, avendo un mancamento causato dalla debolezza. Dei papi sarà fustigatore, Sisto IV, Alessandro Borgia, dissoluti, sodomiti ed incestuosi, per non essere da meno, prese sotto la sua protezione per breve tempo la duchessa onorina del grillo, costretta, pur d'uscire di convento, a maritarsi con un sessantenne che ne conservò la castità per il suo diletto. A Napoli, sotto mentite spoglie, nonostante la benevolenza di Ferdinando IV, giudicò la città il più bel paese dell'universo, abitato dalla specie più abbruttita. Napoli, sotterranea, evocherà in lui gli inferi, i labirinti di Minotauro, di Capri, citerà il raffinato gusto dell'imperatore Tiberio che si purificava con sacrifici altrui dalle sue nefandezze. E se la pietà di Michelangelo gli provoca un'ingiuria verenosa, un impostore sulle ginocchia di una donnaccia, i tredici anni che passerà in carcere nella sua civile Francia non basteranno a punirlo delle sciocchezze di un libertino aspirante scrittore. Grazie per la visione!